BELLA VECCHI DRAVANI ISAMI GRANSI, siamo tornati con un nuovo episodio di Far Cry e visto che quello che è presente vi è piaciuto, abbiamo deciso di continuare e il episodio comincia tra 8, 7, 6, 5 e quindi oggi siamo... no io non voglio l'articolo ah no no, ovvio io, vai, inizio io, inizio io, inizio io, inizio io visto che oggi siamo su una nuova partita, quella di tipo dobbiamo catturare le maschere l'abbiamo capito bene, quindi non abbiamo mai giocato a questa modalità Lui vola, lui vola vola verso il rosso no no, devo piandere la maschera devi andare alla torre eccola ma la maschera tu quella lì la stai difendendo, tu sei quello che difende adesso devi andare verso la torre nemica e quindi devo difendere la maschera ti auguro il paracadone però stai tranqui stai tranqui eccolo Diego subito ma che è? ma che cazzo sta a farlo di là che cazzo ma va a farlo vai, entra spam e allora io niente io difendo perché mi piace difendere la gente eccolo, 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 eccolo che è quello che capita no occhio mamma mia gli sentono in bocca ammazzano subito così senza che gli spagli come si fa ammazzano senza sparagli? eh, guardi 3 io ho cortelli no, vero questo ancora si è accorto che c'è stai guarda, guarda, è stupido, guarda è morto ma davvero? sì, finicilo ma è stupido cazzo vaffanculo pezzo di merda andiamo a saltare la loro torri dai spam agab non ci sarà nessuno sicuramente però come connessione all'oste persa ha qualcuno che rosica e se ne va peggio dei cod sto gioco mamma mia la gente quanto rosica ma però sta tranquillo taglionetto migrazione all'oste fallita ok andiamo subito a cercare un altro partire stupido avamposto mamma 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 io direi distilleria mi piace di più io direi istituto però distilleria perché mi piace istituto ah no istituto ma come gli fai solo vuoi fare distilleria o istituto o istituto distilleria 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 ok facciamo istituto sbam ak47 ho tre ore che stanno a camminare vai sopra senti ma famo così ecco come ho fatto la cazzola guarda che coglioni vabbè volevamo fare un video su far cry ma non ci siamo riusciti attendere vediamo se sarà la volta buona istituto propaganda vai vai sarà la volta buona che si gioca? no se mi fai lo sai mi fai lo vuoi però perché sono 4 volte che che c'è la partita oh questa è la pappa dell'altra volta chissà se potremmo giocare chissà ora è iniziata da manegra stagione a fare la ss vai 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 guida spara guida spara 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 g buttate tutta sinistra ma che c'è sta il ponte questi cazzi andiamo sul ponte buttate sinistra ci stanno i nemici guido quanti so che cazzo fai perchè? per quale motivo? tu stavo questo eeeh vai zio ma sa quanto so forte la pippa è un attimo ma fa ancora da amica oh l'ho fatto eh è la prima volta che spara ecco un altro la dietro sono dietro sono dietro sono dietro che chiede coglione sa porca è vero giusto ma la mamma da vedere no e io v'ho guardato con un paragadulo vai 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 che ci possiamo fare c'è la tratta spara un benissimo oggi mi riesco spara questo che sta a fa' qua la merda vuoi potere con me è fatto come lo vedete che druia è probabilmente ti fotte sicuro sta sopra vuoi potere con me ecco l'altro questo c'ho dietro mamma mia ragazzi creatività finiscilo mamma lo finisce anche sali c'è un altro qua fermo ancora cinque minuti tu sta sta davanti a te eccolo eccolo mortacci tuo oh ma tutti qua eccolo investilo investilo lo investi lo investi sto qui e infamata da dietro penso di un schifo è vero che tu stavi sparando l'elefante non beh l'ho provato ma poi lefante si è messo mezzo da robocidi ci va ci va dritto boh cazzo fa ma è vulnerabile estrefante ma che cazzo fa ma che ho preso io no amore dove sinistra dove si è diventato visibilità infanto lo so distruggi 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 penso di merda eccolo vai 1 2 vai col 3 e lei va te esci dalla macchina parca l'unica cosa l'unica porta che dovevo usci ma mamma mia oh oh ole morii bombe ce n'è stata sicuramente un altro ma sicuro poco a palla eeeh eeeh non lo prende va a lungo muore e finisce qua ma dai però poteva finire in bellezza cioè loro hanno innescato tutte e tre le bombe diciamo che abbiamo perso male ma perchè soltanto perché noi siamo entri insieme andorando perchè stavano andando meglio sei stato molto odio in questa partita si comunque ragazzi se vi è piaciuto anche questo episodio di far cry vi diamo appuntamento al prossimo stiamo cercando di fare una copp con qualcun altro su far cry per fare delle missioni in copp per rendere più carine soltanto che far cry non va bene il server non funziona scusate cioè verrà salito lo sbadiglio far cry in pratica noi inviamo un invito a frax dread che cazzo vi pare non riescono ad entrare il invito e non riescono ad entrare nella nostra lobby quindi cercheremo una soluzione per fare una copp ragazzi grazie tutto bene ciao 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 ciao